Castel Penede, luogo di storia e cultura, ora è anche un posto per eventi di grande rilievo. A dirlo è il sindaco di Navotorbole Gianni Morandi, all'indomani del concerto dei Nomadi, che è andato in scena lo scorso venerdì nel parco del Maniero Naghese. Una sorta di battesimo per la location, che ha dimostrato di poter ospitare anche eventi di una certa portata e dimensione. «Abbiamo cercato fin da subito di dare un taglio diverso a quello che era stato l'utilizzo dell'area prima del nostro insediamento, portando appuntamenti di un certo spessore», ha commentato il primo cittadino, «ma il concerto dei Nomadi è stato il primo vero grande evento che ha messo alla prova tutta l'organizzazione». Non è stata coinvolta solo la location Castello, ma anche l'intero paese e l'intero sistema comune, con la viabilità ai parcheggi e ha dimostrato di esserne all'altezza. L'amministrazione è intenzionata ad effettuare una serie di interventi sul parco e sui ruderi, tra cui il completamento dell'illuminazione delle mura ai fini scenografici e alcune migliorie legate all'infrastrutturazione e al verde, con la creazione di finestre di vedute sul lago e sul panorama gardesano.